ciao a tutti amici è l'ora della merenda e anche della barzellettina allora ci sono due amici che si incontrano e dice ciao ciccio come stai guarda c'ho questa fanno che devo andare di corsa dal dottore perché non mi va più io questa fanno e non capisco come mai allora dice vai 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 di corsa ok lui parte va dal dottore arriva dal dottore dottore buongiorno mi dica senta guardi io ho questo affanno che sono parecchi giorni non riesco più a toglierlo di dosso cosa devo fare il dottore lo guarda lo visita dice guardi deve fare semplicemente venti giorni di mare vedrà che con venti giorni di mare lei è a posto ma cosa sta dicendo ma lei mi prende in giro ma sta mi sta prendendo in giro praticamente è impossibile venti giorni di mare si le dico 20 giorni di mare no no mi prende in giro il dottore dice ma mi scusi è ma io sta dubitando della mia professionalità io sono trent'anni che faccio sto dottore faccio questo faccio questo mestiere faccio il dottore paziente mi dice a me io sono trent'anni che faccio il bagnino dai ragazzi io spero vi sia piaciuta e vi lascio alla prossima barzelletta spero più bello più brutta insomma per passare anche quei minutini insieme ciao a tutti amici ciao io faccio la merenda